Il prossimo concorrente in gara, Giovanni Usai Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanni Usai, sono un cantautore sardo dell'Isola della Maddalena e vivo e lavoro a Bologna dove faccio l'infermiere del 118 Allora io in questo concorso porto Glicine Glicine, parlaci un attimo un po' di questo brano che ci tieni tantissimo Sì, questa è una canzone che ancora non è stata prodotta, infatti come ci siamo raccontati il mio produttore artistico sta facendo adesso i primi arrangiamenti su questa canzone e invece io ho avuto voglia di cantarla Ho avuto voglia di cantarla perché Lucio Dalla nelle rondini dice vorrei capire in fondo che cos'è l'amore, da dove si prende e da dove si dà e il mio papà che purtroppo in aprile è andato credo che me lo abbia molto insegnato quindi era il momento di cantarla ne avevo voglia ed era una cosa che sentivo come una mia esigenza E quindi siamo sempre sul filotto del cantautorato signore e signori Giovanni Usai Grazie C'era Da passare insieme ancora una vita intera Per ogni volta che cercavi di parlare ero sempre a lavorare non potevo ascoltare o semplicemente solo non potevo sopportare non potevo sopportare non potevo sopportare e non servirà nemmeno questa mia preghiera ora che no, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è e mi è andato sopra un glicime portando via con te tutte le storie, le tre favole e non credevo che potesse andare fino in fondo lasciarmi solo per il mondo la vita avviene come viene dicevi quanto mi volevi bene ma ciao papà io non credevo di incontrarti in questa storia qua ma questa vita non è vera la nostra anima è leggera si posa sopra questo corpo per poi volare verso un cielo sporco e tu sei andato sopra un glicime portando via con te tutte le storie, le tre favole e non credevo che potesse andare fino in fondo lasciarmi solo per il mondo la vita avviene come viene dicevi quanto mi volevi bene e vorrei ancora litigare vorrei ancora andare al mare insieme per sentirti ancora e per restare ancora insieme e non credevo che potesse andare fino in fondo e non credevo che potesse andare fino in fondo grazie grazie Giovanni grazie 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 grazie